comincia indicando i governi come monopolisti che settano praticamente i valori delle valute ma non abbiamo bisogno di saperlo per la discussione di oggi adesso abbiamo il problema della della catena diciamo di approvvigionamento che è stata danneggiata e ha causato l'aumento dei costi e questo è stato in gran parte indotto politicamente abbiamo delle tasse terribilmente alte per quanto riguarda i carburanti per questo il prezzo dei carburanti alto gli stati uniti hanno messo dei dazi molto costosi che hanno fatto salire i prezzi diciamo danneggiando la la catena di approvvigionamento i prezzi vanno automaticamente su